Buongiorno ben svegliati in questo sabato per andare a vedere quali sono I titoli principali le notizie principali di questa giornata che troveremo che troverete tra pochissimo magari appena uscite di casa sui quotidiani locali e nazionali faremo come al di consueto la solita panoramica partendo dalle prime pagine dei quotidiani ovviamente di casa nostra che purtroppo aprono tendenzialmente con una notizia di cronaca arrivata nella notte questa è la prima pagina del messaggero Abruzzo schianto in galleria un morto a Francavilla scontro frontale tra una smart e un furgoncino sotto il tunnel e queste che vedete sono le immagini che si riferiscono proprio a questo schianto di ieri sera sotto il tunnel e le piane Nulla da fare purtroppo per il conducente della piccola vettura ferito l'autista dell'altro mezzo eccola qua questa è la galleria le piane siamo delle vicinanze di Francavilla e purtroppo la cronaca sono i fatti con cui si è conclusa la giornata di ieri eravamo intorno alle 22 intorno alla tarda serata di ieri sera quando purtroppo c'è stato questo incidente Noi ovviamente nel corso della giornata svilupperemo questa notizia con altri particolari con il racconto e se ci sono delle novità rispetto alla dinamica dell'incidente e quant'altro Quindi ecco perché abbiamo iniziato con queste immagini perché come vedete è anche il titolo principale della giornata Come vedete la tragedia incidente mortale ieri sera dunque alle 22 Per quanto riguarda invece le altre notizie rimaniamo sempre sulla prima pagina del messaggero La vecchi trasferita dopo la scoperta di armi ed esplosivo Lanciano La PM è allontanata per sicurezza trovato un arsenale forse era per un attentato E poi la fotonotizia a Pescara il Ponte Flaiano un vigile il primo allo start Il viadotto aperto ufficialmente al traffico In basso a Teramo, Ateneo, Confetti al gusto di Alca Questa è la prima pagina e vediamo anche in alto invece L'Aquila agli arresti domiciliari spacciava droga per la Movida In alto vediamo soprattutto notizie di cronaca Rigopiano turismo macrobro via alle ronde dei familiari delle vittime A Montesilvano accampamento sulla spiaggia Scatta il blitz contro i migranti Questa è la prima pagina del messaggero Adesso vediamo le quattro edizioni consuete del centro Anche se poi cambiano relativamente poco Solo l'apertura con un focus sulla provincia di riferimento Vediamo a centro Ovviamente l'apertura è schianto frontale Muore giovane Questa è l'edizione di Pescara Francavilla incidente all'uscita della galleria alle piane Gravissimo l'altro conducente In alto Germania in lutto L'Europa dice addio a Colle Cancegliere della riunificazione Catastrofe di Londra Gloria e Marco Addio speranze Morti nel rogo Purtroppo i due italiani Torniamo a casa nostra Sulla destra Montesilvano nelle cronache I senegalesi sfrattati anche dalla spiaggia Pescara Strada Parco Da oggi la sosta costa 3 euro E poi sempre a Pescara Assunzioni 20 nuovi posti in comune Ovviamente si torna in basso Su Rigopiano Le ronde dei familiari Per evitare che ci sia Questo turismo macabro E poi il calciomercato Il Genoa Che contende Gans Al Pescara Uno degli obiettivi Della Pescara Di Zeman Vediamo sulla edizione di Teramo Sempre nel centro Sisma 24 milioni Per le scuole Destinata al Teramano La maggior parte dei fondi Stanziati dal governo Per l'Abruzzo Nelle cronache Donna trovata morta Nella Roulotte Tugurio A Teramo Dal PD Appello ai fuoriusciti Rientrate A Martinsicuro Camaglioni I Dem Volevano solo un posto in giunta E poi entra nel vivo La Tricap Sport ed eventi In programma Gare e spettacolo Una tappa Di Miss Italia A Tortoreto Invece c'è da cambiare Il regolamento Dei locali Notturni Edizione di Chieti Ex carichieti Chiudono venti filiali Ubi Banca Presenta il piano industriale 3000 esuberi Tra tutti gli istituti Del gruppo E poi a Lanciano Rischio Attentati dal 2012 Il PM Trasferito A Pescara Il PM Rosaria Vecchio A Chieti Condotte Rotte Lunedì 18 Le strade Saranno Senz'acqua Poi ad Ortona Marcheggiano Uno dei candidati Sindaco Di Ortona Che andrà al ballottaggio Vara la giunta Già in anticipo Abbasto Pomodoro Sull'assistente sociale Aggredisce Dipendente comunale Imbratta l'ufficio Con la salsa E per il calcio Il Chieti FC Rinato Il nuovo stadio Nell'ex Ciapi Andiamo adesso All'Aquila Caccia aperta I voti Degli sconfitti Ovviamente ci si Si guarda Al ballottaggio Di domenica prossima E ovviamente A tutti quei voti Che adesso Tutti quei voti Delle persone Che hanno votato Candidati Che adesso Non saranno Proprio al ballottaggio Trattativa con le liste Degli esclusi Per gli apparentamenti Al ballottaggio Nelle cronache I grillini Si sfilano Scheda nulla Ad Avezzano Al secondo turno Dunque Ad Avezzano Almeno I grillini Arrivano Arrivano Lamarini E Pozzetto Circuito di Avezzano Si preannuncia Un weekend Con le stelle E invece Grande festa Sempre a Celano Per i 30 anni Dall'approdo In serie C Per quanto riguarda adesso La prima pagina Della città Quotidiano Della provincia Di Teramo Non chiamateci Antivaccinisti Oggi a Mosciano Il convegno Dei Free Vax L'asile di Teramo Schierata Per l'obbligo Vaccinale Poi in alto Pomante Allontanato Dalla sede Del Partito Democratico Rapporti tesi Con il rapporto civico Dopo le comunali Di spalla L'antifa Davide Roscio Trovato la mia città Dice Molto peggiorata La ricostruzione Gli inquilini Delle case popolari Rientreranno Entro il 2018 Parola Dell'Ater Oltre alla fotonotizia I confetti Che All'università di Teramo 21 milioni Questo è importante Per le scuole terremotate Teramo Nel piano regionale Anche il polo San Giuseppe E poi in basso Cacciatori infuriati Controllo dei cinghiali Esposto in procura Sulle regole Della regione Queste erano Le prime pagine Dei quotidiani Locali Adesso Andiamo Anche a dare Un'occhiata A quelli che sono Invece Le notizie principali A livello nazionale Leggeremo Ovviamente Le prime Dei quotidiani Nazionali Magari i principali Non tutti Iniziamo Dalla Repubblica Si apre con sciopero Le città in tilt Del Rio È inaccettabile Ora cambiare Le regole Una minoranza Di lavoratori Non può bloccare Tutto Gubitosi Assurdo Fermare Real Italia Proprio in questo momento Peraltro Inizia il periodo Dei grandi viaggi Estivi Addio Helmut Kohl Il grande cancelliere Che riunì La Germania Rinforzando L'Europa E poi Si torna Sulla questione Dello Jus Soli La politica Che si divide Il valore Della cittadinanza E poi Tra un po' Torniamo sulle pagine Perché Ci deve essere Un problema Sulla prima pagina Di Repubblica Sì è così E allora Cambiamo decisamente Quotidiano Il tempo 6.000 vigili urbani A guardie delle buche Follia a Roma Agenti mandati A presidiare Le voraggi Nelle strade Oltre 3.000 interventi Negli ultimi Cinque mesi E si rompono pure Gli autobus Questo è Il solito L'ente di ingrandimento Che il tempo Dà Come di consueto Alla città di Roma E poi L'annuncio Della Russia Ucciso il capo Dell'Isis Forse La meningite Colpisce ancora A centro Nel taglio basso Della pagina A Roma Bambina ricoverata Da una settimana A Firenze Un ragazzo In ospedale Di spalla Altro rinvio Restano i privilegi La riduzione Dei vitalizi Può attendere Andiamo avanti Il messaggero Però L'edizione nazionale Caos Scioperi La resa Dei partiti Il blocco Delle piccole sigle Sindacali Paralizza Roma Fermi Metro Bus E ferrovie Urbane Va meglio In altre città Del Rio Serve una stretta Ma tocca Il Parlamento Il garante La legge Deve cambiare E poi L'addio a Col Riunificò L'Europa Morto il cancelliere Della caduta Del muro Tra le due Germanie E c'è l'analisi Di Romano Prodi Il suo segreto Da statista Lunga analisi Sì Ma poi Scelte Assolutamente Rapide La stampa Il quotidiano Di Torino Provincia Il fantasma Nessuno ripara Strade E scuole Ecco il conto Dell'abolizione A metà Tagliati i fondi Ma non le competenze Lupi Senza finanziamenti Soppressi I servizi E poi Inizia l'estate Ma che paura Le alghe Primo weekend Di vacanza Una ricerca Racconta Mode Mete E anche Dei tic Evidentemente Che fanno parte Un po' Anche Del Del costume estivo Di molti italiani In Africa Piano italiano Antiterrorismo Parla il capo Dello Stato Maggiore Graziano I nostri militari Saranno istruttori In più nazioni Cambiamo Quotidiano Vediamo il giornale Che apre con Invece la vicenda Che Interessa Magari Più da vicino Se passa Lo Ius Soli Arriva addirittura Forse Una provocazione Il partito Islamico Con la cittadinanza Facile Porteranno Il Corano Pure in politica Il lavoro Aumenta Ma solo Per gli immigrati Pronti Milioni Di voti E poi Purtroppo Il rogo Di Londra L'ultimo saluto Dei genitori Così Gloria Ci ha insegnato Che la famiglia Non è perduta Torniamo Sulla politica Blitz del PD Sulla Consip Via i vertici Per salvare Lotti E poi La questione americana Trump ammette Di essere indagato Al Bagdadi E il solito mistero I cattivi Non muoiono Mai Il fatto quotidiano Renzi Caccia il testimone Marroni Per salvare Gli indagati Di Lotti E compagni Panico Da Consip La D Non ritratta Le accuse Alloca Tiziano Il PD Lo sfiduce E poi la questione Voucher Camusso in piazza Il governo Dei poteri forti L'ex cancelliere Colle è morto Il califo Al Bagdadi Questa Insomma Questo accostamento Forse E poi Un appello Le analisi A Interne Un appello A chi fa Appelli Alla sinistra Pietà Smettetela Parla Giuliano Vedete la foto Di Giuliano Pisapia E invece Poi La foto di Berlusconi Ora è forza gnocca Per inseguire Silvio Leggiamo Libero Hanno fermato Tutto Anche il loro cervello Sciopero dei trasporti Sindacalisti Incoscienti I Cobas Blocano aerei Treni e bus Per rivendicare Il diritto Ad incrociare le braccia Senza rendersi conto Che c'è già Ed è il più garantito Il governo Li critica Però non fa nulla Per tutelare Chi subisce Le proteste A centropagina In intervista A Luigi Di Maio L'accoglienza Un limite Pensiamo ai disoccupati E non Allo Ius Soli E poi a Roma Però Problemi Che evidentemente Riguardano il Movimento 5 Stelle L'immondizia Batte la raggi Incendi e divieti Paralizzata La raccolta Dei rifiuti Nel Lazio Il gazzettino E con il gazzettino Chiuderemo la pagina Dei Quotidiani nazionali Per poi Vedere i quotidiani Sportivi Fisco e tangenti 16 arresti A Venezia In carcere Dirigenti Delle entrate Ufficiali Della guardia di finanza Imprenditori Sconti Agli evasori In cambio Di soldi E regali E spunta anche Una mazzetta All'assessore 100 mila euro Per un appalto E come vedete Insomma Purtroppo Alcuni Malcostumi Non Non finiscono mai E sono In ogni parte D'Italia Vediamo i quotidiani Adesso Sportivi Partendo con Il Corriere Dello Sport La foto principale È di Gianluigi Donnarumma Che ha appena Detto di non voler Rinnovare Il suo contratto Con il Milan E addirittura Il Corriere Dello Sport Chiama la Juve Dicendo Juve fatti avanti Caso Donnarumma D'altronde C'erano state anche Le dichiarazioni L'amministratore Delegato Bianconero Beppe Marotta Che lancia l'assalto In esclusiva Parlano Mirabelli e Fassone Se Beppe Vuole Gigio Siamo qui Per il Milan Non ha prezzo Corraiola Di fatto Non c'è stata Trattativa Ma vedrete Che il portiere Alla fine Andrà al Real Madrid In alto Totti Si prende La nuova Roma L'ex capitano Sarà dirigente A fianco Al Noo allenatore La burzese Eusebio Di Francesco E dunque Un ruolo Importante Anche per Francesco Totti Per Continuare La sua avventura In maglia Giallo-rossa Napoli Invece Uno scatto Per avere Meret Il portiere Che quest'anno Ha giocato Alla spalla Che ha trovato Una grande stagione Con i ferraresi Ma che Dell'Udinese Accordo ad un passo Pressing sull'Udinese Per avere Il portiere Per sostituire Pepe Reina E poi A tu per tu Zambrotta Che consiglia Ad Allegri Prende un altro Higuain Ammesso che Ce ne sia Un altro Di Gonzalo Higuain Da poter Prendere E poi Sempre Sempre Sul Corriere Dello Sport Vediamo Queste Altre due notizie La prima Adel Clamoroso Ed è stata lanciata Ieri da alcuni Quotidiani Portoghesi Evidentemente Molto informati Sulla Vicenda Di Cristiano Ronaldo Che ha confermato Pare di voler Lasciare Il Real Madrid Dopo le accuse Di frode fiscale Ed evidentemente Dopo Che il Real Madrid Non lo ha difeso A dovere Questa almeno È la sua opinione Ovviamente E poi Il Fioretto Ragazze d'Oro La squadra Delle Fiorettiste Trionfa A Tbilisi Fioretto Comunque Ci ha sempre regalato Grandissime Soddisfazioni Tutto Sport Dà un taglio alto Proprio alla vicenda Relativa a Cristiano Ronaldo Ronaldo Shock Lascio il Real Madrid Si parla di una Clausola Rescissoria Intorno ai 400 milioni Però insomma È una telenovela Che per gli amanti Di sport Si porteranno Dietro Tutta l'estate E poi Marotta Su Donnarumma La Juventus Ci prova La Di Bianconero Esce allo scoperto Sul portiere Che ha rifiutato Di rinnovare Il contratto Con il Milan Abbiamo il dovere Di tentarci Il Chelsea Veneto Oreina Ed è guerra A Raiola Ovviamente adesso Il Milan Deve cercare Di trovare Un altro portiere L'Inter Bernardeschi Incontro Via Brozovic E Perisic Bayern Assalto a Verratti Ma sarà Un duello Per il nostro Marco Verratti Con il Barcellona Ammesso che Il Paris Saint-Germain Voglia Effettivamente Farne a meno Rivoluzione Nello staff Medico Del Torino Il Toro Sceglie Tavana Il dottore Del Grande Milan Mercato Segnali da Don Sa Belotti Festa rovinata Musica troppo alta I vigili Addirittura Fanno spegnere Tutto E poi In Lega Pro Alessandri e Parma Sì perché oggi Si gioca l'ultimo atto Della Lega Pro Lunghissima Che è iniziata L'estate scorsa E si conclude Di fatto Questa estate Si giocano L'ultimo posto Per la B Alle 18 A Firenze Dopo che L'Alessandri Ha battuto la Reggiana Il Parma Non senza Tante polemiche Con tante polemiche Ha battuto il Pordenone Finale playoff Di alto livello I piemontesi Cercano Una storica promozione La Serie B Manca Da 42 Anni Questo Per quanto riguarda Le prime pagine Noi ovviamente adesso Ci vediamo Le previsioni Del meteo Andiamo in pubblicità Voi non cambiate canale Perché al rientro Entreremo Dentro le pagine Dei quotidiani Ovviamente Di casa nostra E staremo insieme Fino al 9 A tra poco Di nuovo insieme Seconda parte Di mattino 6 Per entrare All'interno Dei quotidiani Dei quotidiani Ovviamente Abruzzesi Che aprono All'interno Nelle pagine interne Al di là Del titolo principale Che è lo schianto Purtroppo mortale Che c'è stato A Francavilla Nella Tarda serata Di ieri Aprono Con lo scontro Tra il centrodestra E il presidente Della regione Abruzzo Ovvero L'attacco Della opposizione Centrodestra Alla regione Su trasporti E cultura Una regione Inadempiente Sospiri E Febbo Che dicono La tua riesce A pagare Solo il carburante Nessun Grande evento Estivo E in rosso C'è anche Il teatro Marruccino Di Chieti Il grande Blef Sotto Sotto la Cipria Il senso Questo è più o meno Il senso Dell'affondo Di forza Italia È un po' questo Con il capogruppo In regione Lorenzo Sospiri E il presidente La commissione Vingilanza Mauro Febbo Pronti a fare Le pulci Al governatore D'Alfonso E alla sua Giunta Peraltro Se cambiamo giornale Vedrete che Dall'altra Anche Sul centro L'apertura Dell'Abruzzo È proprio Febbo E Sospiri Contro D'Alfonso Il PD Ribatte Il centrodestra Rosica Scontro dopo il taglio Del nastro Del ponte Flaiano Che già aveva Creato Qualche polemica Qualche attrito Con l'inaugurazione Pre Da parte Dell'opposizione I leader Di Forza Italia Grandi progetti Bloccati E trasporto pubblico Assolutamente Al verde Ma il vice capogruppo Dei democratici Balducci Replica Falso Stiamo Lavorando E questo Sono le foto Con delle vignette Anche satiriche Da parte di Lorenzo Sospiri E Mauro Febbo Che ritraggono Il presidente Alla regione D'Alfonso Nel cerchio Nel tondo Vedete Il vice capogruppo Del partito Democratico Alberto Balducci Allora Visto che Questa notizia Trova spazio Sui quotidiani Di casa nostra Ci andiamo a vedere Anche il servizio Relativo A questa polemica Tra il centrodestra E il governatore Della regione Ambrozzo Vediamo Qualche tempo fa All'inizio della legislazione Ci è stato presentato Una situazione Catastrofica Rispetto al trasporto pubblico Bisogna per forza Fare questa nuova società Tua Perché L'ex Arpa Doveva portare i libri In tribunale Poi veniamo a scoprire Che abbiamo Un buco enorme In Tua Ci sono 29 milioni Di fornitori Di euro Ai fornitori Che non vengono pagati Ma la cosa allucinante È che Quei crediti Che furono cancellati Dicendo che Non erano Esigibili Che erano falsi Improvvisamente Ricompaiono nei bilanci Di Tua E vengono addirittura Transati Non sappiamo Che cosa sta succedendo Per quanto riguarda I fornitori Una situazione drammatica A dir poco Scandalosa Quella delle istituzioni Culturali Dal teatro Marruccino Alla giostra cavalleresca Al bimillenario Ovidiano Siamo arrivati A novembre Del 2016 Quando tutte le associazioni E istituzioni culturali Erano sull'oro Del fallimento Grazie alla nostra Sollecitazione Esce una variazione Di bilancio Vengono assegnati I fondi Siamo a fine giugno Non vengono ancora Assegnati i fondi Del 2016 In bilancio Abbiamo zero Per il 2017 Insomma Qui oramai La cultura in Abruzzo È in totale Abbandono Ci permettiamo Di spendere soldi Per inaugurare Un ponte Che peraltro È di un'amministrazione Comunale E abbiamo Tutti i cantieri Fermi I cantieri Aperti Con gli ex FSC Quelli famosi Del Masterpad Non decollano Perché le convenzioni Che venivano Sottoscritte Dal Presidente Alfonso Illegittimamente Sono state bloccate Abbiamo accumulato Richieste di fornitori E di terzi creditori Per oltre 90 milioni Di euro Nel bilancio regionale È una situazione Veramente drammatica I dati Lo sono ancora di più Addirittura Cominciamo a avere Per la prima volta Da decenni Cominciamo a avere Anche dati negativi Per quanto riguarda L'export Dall'automobile Credo che veramente Qualcuno stia Facendo precipitare L'economia Di questa regione Ok Continuiamo le pagine La lettura Delle pagine interne Dei giornali Restando sul messaggero Ma spostandoci Sulla pagina Di Pescara Ironman Mare pulito E strade chiuse E domani Il grande evento Che porta in città La grande sfida Di triathlon Nasse attrezzato Off limits E viabilità Rivoluzionata In vari centri Nessun problema Per la gara di nuoto Tutta la costa Pescarese È balneabile L'assessore Scotolati Ha chiesto anche Di togliere I divieti E questo Vedete più o meno Il percorso La mappa Della Mezza Maratona Di domani Che dunque Coinvolgerà Buona parte Della città Di Pescara Soprattutto Lungomare Nord Lungomare Sud Fino alla Pineta Come vedete E ovviamente Questa cosa Creerà Qualche Ovviamente Qualche Scombussolamento All'interno Della viabilità Cittadina Sosta 4 euro Nell'ex Enaip Ed è scontro Per i parcheggi Estivi Civitarese L'aumento Per risanare La ciclabile Del lungo fiume Sud Fiorilli Un salasso Per le famiglie Riviera Sud Invece A un euro Per quanto riguarda Invece Il liceo classico Settimana corta Un anno di prova La preside D'Amico Conferma La scelta Ma concede Spiragli Per modifiche future I contrari Sono 100 Su 1600 Alunni Droga La finanza Blocca due Corrieri Al terminal Della stazione Oltre due chili Di droga Acish Mariana Ma anche cocaina Per un valore Sul mercato Di oltre 150 mila euro Sono stati sequestrati Dai finanziari Del nucleo Di polizia Tributare In due Diverse Operazioni Sempre a Pescara L'ex vigile Inaugura Il ponte Monte Flaiano Bruno Donofrio Bruno Donofrio Atteso mezz'ora Al sole Per non perdere La pole position Voleva essere assolutamente Il primo a passarci Alessandrini in bici Con la bagnara tricolore Dorazio Primo ciclista Sui pedali Anche l'assessore Civitarese Il comandante Magitti Il consigliere Pastore Passa in scudo Insomma Ieri c'è stato Molto traffico Soprattutto perché Molti volevano essere I primi Ad inaugurare Questo monte Flaiano Rigopiano Ronde antiturismo Macabro La procura Fa recintare Il sito Del disastro Ovviamente Qui c'è Anche tutto Il dolore Dei familiari Che vigileranno Sulla zona Dove C'era Purtroppo Non c'è più Il resort Rigopiano Proteste in via Prati Pignoli Terreni agricoli Inaccessivi I terreni Agricoli Diversi proprietari Privati Non sono più Accessibili In via Prati Dopo i lavori Eseguiti Sulla strada Da parte Del comune Lo dichiara Il consigliere Comunale Massimiliano Pignoli Pista ciclo Pedonale Sul fiume Al via Il restauro Del ponte Di legno Andiamo avanti Ci spostiamo Montesilvano Carabinieri E vigili Liberano la spiaggia Invasa Da I migranti Secondo Blitz All'alba Dopo lo sgombero La politica Serve più Sostegno Sociale E poi nella foto La conferma Di Luciano Di Lorito Sindaco Di Spoltore La proclamazione Grande emozione E ha voluto Ringraziare E ha voluto ringraziare Anche la squadra Che lo ha accompagnato In questa Seconda Campagna elettorale Ed evidentemente Anche nel secondo Mandato Alla guida Di Spoltore All'Aquila Cocaina E crack Per la movida Scatta L'arresto In pieno centro Manette Per Nicolino Di Fabrizio 46 anni Spacciava droga Dagli arresti Domiciliari Stretta Della polizia Dopo la violenta Rissa Che Dieci giorni fa Ha suscitato L'allarme Call center Tensiter Autostrade E Battaglia Sul caso Iker È intervenuto Anche Giovanni Lolli Ci siamo già attivati Ha detto Nei confronti Del governo Per l'apertura Di un Tavolo Torna a splendere La chiesa Di San Vito A Borgo Riviera E poi In basso La nuova scuola Mazzini Smart e climatizzata Provato il progetto Definitivo per Villa Gioia Connessione Wi-Fi E Agora Questa è La scuola Del futuro Che sarà Ricostruita E ospiterà 375 Alunni Suddivisi In 15 classi E poi La sfida Per La poltrona Di sindaco Ovviamente Essendo all'Aquila Non poteva mancare Di Benedetto E Rapace Con l'Aquila L'unico faccia a faccia Possibile Ironia in risposta Alla presunta Sottrazione Dei confronti La coalizione Continua a smentire Dissidi Correnti E Livori Qui siamo Dalla parte Del centro Sinistra Dalla parte Del centro Destra Biondi Una consulta Una consulta Una consulta che resterà Sempre operativa Fissato anche un incontro Per varare In tempi brevi Il centro smistamento Il merci E il museo All'ex Arsa A Tagliacozzo Isola pedonale Pericolosa Parte Parte un esposto Questo L'ha affermato Un gruppo di cittadini Che ha inviato Una lettera Al sindaco Della città La scuola Sulmona Chiude per lavori Ed esplode L'ira Dei genitori E poi A Rivisondoli La bomba Sarà fatta Brillare Martedì Sono previste Per il 20 giugno Le operazioni Di disinnesco Trasporto E brillamento Dell'ordigno Bellico Inglese Rinvenuto Nei giorni scorsi A Rivisondoli Dunque Martedì Dalle 8.30 Alle 15 Ci saranno Queste operazioni Con gli artificieli A Celano La Merolli E rubati 200.000 litri Di gasolio Nel deposito Della società Merolli SRL Che si trova Nella zona sud Della cittadina Castellana Andiamo a Chieti Si sblocca La nuova biblioteca Doppio appalto Alla provincia L'ente prepara I bandi Per la progettazione I lavori Si parte Con 4 milioni Di euro Paradosso Per la storica De Meis Senza soldi Non potrà aprire Mancano In tonaci E finestre Giornata mondiale Del donatore Il rito Dell'infiorata I due appuntamenti Di oggi E di domani Nella città E nel territorio I tempietti Assedati dal degrado Vergognoso Accogliere i turisti Così Siamo a Chieti Di primi All'attacco La soprintendenza Deve intervenire Subito E poi Ovviamente A Lanciano La PM Vecchi Sottoscorta Da 5 mesi Sconcerto A Palazzo Di Giustizia All'indomani Della notizia Del trasferimento Del magistrato Ritenuto A rischio Attentato L'inchiesta Di Campobasso Conferma Qualcuno Stava preparando Un agguato Per lei Entro 30 giorni Sarà In servizio A Pescara Abbasto Castrignanò Premiato E tra i comandanti Più bravi Il maresciallo Il grado E quello Di luogotenente Ma per tutti Ancora il maresciallo Da 34 anni Castrignanò Nell'arma Dei carabinieri Escherichiacoli Fuori norma Scatta Il divieto Di balneazione E siamo A San Salvo Pronto Per le nozze Finisce in carcere Doveva salire Questa è una notizia Curiosa Doveva salire Le scale Dell'altare Invece a sorpresa Gli sono aperte Le porte Del carcere E' stato arrestato Il giorno del matrimonio Sante De Rosa 30 anni Di Lanciano Accusato di detenzione Ai fini di spaccio Di sostanze Stupefacenti Chissà come ci sarà Rimasta La sposa Il piano spiaggia Abbasto Verso L'approvazione Ovviamente Adesso molte L'attenzione Si sposta Soprattutto Alla qualità Delle Delle nostre acque Perché poi Noi Noi abruzzesi Ma anche a chi verrà A farsi il bagno Da noi I turisti Verranno da noi Teramo PD Porte aperte Forusciti Tornate a lottare con noi La conferenza Dem si presenta Pomante L'esponente Di AC Non è stato Non è stato fatto Entrare Brucchi Ancora Nelle sabbia Mobili La nuova giunta Forse solamente Lunedì Di spalalghe E semi di sesamo Nei confetti Dell'Ateneo Per quanto riguarda L'acqua Grillini E ingegneri Contro La Ruzzo Reti Questa è Una notizia Che appunto Riguarda La qualità Delle nostre Acque E a proposito Della Questione Acqua Vediamoci Il servizio Che Parla Dell'ordine Degli ingegneri Soprattutto Il presidente Dell'ordine Degli ingegneri Di Teramo Che non morla Sul tema Della sicurezza Dell'acqua Del Gran Sasso Alfonso Marcozzi Rende note Le risposte Ottenute Dalla regione Dopo La richiesta Di accesso Agli atti Per informazioni Ambientali Proprio Sul sistema Idrico Teramano Andiamo Andiamo a vedere Il servizio L'ordine Degli ingegneri Di Teramo Non molla Sull'acqua Del Gran Sasso Dopo aver avanzato Una richiesta Di accesso Agli atti Agli organi Competenti Per ottenere Informazioni Ambientali Sull'approvvigionamento Potabile Del sistema Idrico Gestito Dalla Ruzzoreti Il presidente Alfonso Marcozzi Polemizza Sulle risposte Ottenute E su quelle Non pervenute Va detto Chi è che ha Risposto Ha risposto La regione Ieri siamo Stati lì Con il dirigente Chiarezza Delle informazioni Che ieri ci ha passato Ha risposto L'AS Per quello Che poteva rispondere Ma il soggetto Più importante Quello che ci chiede Soldi Per erogare Un servizio Quello che dovrebbe Assicurare Che questo servizio Sia tale A garantire La salute Quindi Che l'acqua Abbia quelle caratteristiche Nulla ci ha consegnato Ma perché Nulla ci ha consegnato Molto in mente Non certo Forse per pigrizia Forse perché Devono tenere in caldo Le poltrone O forse perché Non conoscono il sistema Quello che poi Ieri nei fatti La Regione Ci ha documentato Il sistema Non è conosciuto Ma questa è una sua Supposizione Non è la mia Supposizione È scritta Il documento Che ci ha rimesso La Regione Avevano istituito Una commissione Sin dal 2002 Quando ci fu Quell'inquinamento Importante E noi già allora Facemmo accesso Agli atti Perché non è la prima Volta che lo facciamo Già allora Seguimmo alcuni interventi Quella commissione Ha prodotto carta Adesso ne viene E introdotta Un'altra commissione Per fare che cosa E questo ci era garantito Longhi E da questo punto di vista Ci ha assicurato Che da qui a qualche mese Saremo nuovamente Interpellati Per capire come Questo tassello Comincia a costruirsi Questo sistema Delle conoscenze Comincia a dare Quelle corrette informazioni Che in maniera predittiva Devono salvaguardare Quel bene primario Che è l'acqua Infine Presidente Dell'Ordine degli Ingegneri Un passaggio polemico Lo riserva Al lato di Teramo E all'Ersi Enti regionali Preposti al controllo idrico Su questo argomento Va precisato Che l'Ersi È nato Come ente unico Al fine di accorpare Tutti gli ato provinciali Questi ultimi però Per il momento Sono ancora operativi E intanto Lato e l'Ersi Che cosa fanno? Lato e gli Ersi Riscaldano le sedie I bracci operativi Della regione Che dovevano intendere Su questo processo Non so negli anni Cosa hanno fatto Perché lato doveva preoccuparsi Del sistema Se fosse noto E il tipo di liquido Quindi anche Venisse erogato ai cittadini L'Ersi Di nuova costituzione Il braccio operativo Mi sembra che sia Al momento Uno scatolone vuoto Forse per ripartirsi Qualche soldino A fine dell'anno Andiamo avanti Ci spostiamo Sull'area di Giulianova Rosetto Val Vibrata Allora Acqua viva Siamo a Giulianova Spiegato Lo stop ai lavori L'imprenditore Arangiaro Che aveva acquistato L'immobile all'asta Dal comune Non ha mai voluto cedere A specifiche pressioni Bloccato per questo Pure il progetto Per costruire Sull'area Exforti Ubicata in via De Ravelle Chiesto risarcimento Milionario Un giallo Sulle decisioni Del riesame Scarcerazioni respinte Non è vero Più turismo E commercio Arriva l'ok Del consiglio A Rosetto E poi A centropagina La festa Della Saila Silvi Marina Ripartire Dal territorio Ottant'anni Per La fabbrica Di caramelle Alla liquirizia Alla menta In cui siamo stati Ieri Allora ci vediamo Anche in questo caso Il servizio Circondati dall'odore Intenso di liquirizia E menta Il nostro viaggio All'interno Dello stabilimento Saila di Silvi Inizia dalle radici Di liquirizia Se 80 anni fa Arrivavano dalle colline Intorno a Silvi Oggi provengono Da altre parti d'Italia Ma l'atmosfera Che si respira È simile A quella dei primi Del novecento Le radici Vengono selezionate Per dare il via Al processo Di trasformazione In liquirizia Prima la pasta Poi i lunghissimi Bastoncini pronti Ad essere tagliati E confezionati Lo stabilimento di Silvi Ha aperto le sue porte In occasione Dell'ottantesimo compleanno Una fabbrica Che è diventato Un simbolo Della comunità Silvarola Perché ne rappresenta Contemporaneamente Il passato E il futuro Con i suoi 50 dipendenti Questa mattina In occasione Del porte aperte Delle visite guidate Per le famiglie Dei dipendenti È stata inaugurata Anche la mostra fotografica Che ripercorre La storia Della società Anonima italiana Liquirizia Bruzzese Nata nel 1937 Da Aurelio Menozzi E Angelo Barabaschi Ed oggi parte Della multinazionale Svedese Cloetta Una giornata speciale Una giornata annunciata Qualche mese fa Nella quale Vede partecipare Tutti i dipendenti I loro familiari I bambini Una giornata Di gioia Finalmente La fabbrica Capra le porte Fa vedere Che cosa fa Una fabbrica Che basa Tutto il suo successo Sulla qualità La qualità E la trasformazione Naturale Della liquirizia Ma principalmente La gioia Dei lavoratori La passione Per i lavoratori Per questa fabbrica La passione Per Saila Che cosa avete organizzato Oggi Oggi È una giornata Che vede Innanzitutto La visita Di quello che Noi abbiamo chiamato Le porte aperte Nella quale È una visita Esperienziale Un museo Nel quale Il visitatore Può raccogliere Sia la storia Di Saila Che le emozioni Di quelle che sono Le ingredientistiche Naturali di Saila Il processo di Saila Dopodiché Il visitatore Visiterà la fabbrica Visiterà la fabbrica In azione C'è operativa Quindi i dipendenti Potrà conoscere i dipendenti Stringere la mano I dipendenti E quindi poi Abbiamo anche organizzato Uno spaccio Che si chiama Pop-up store Un temporary store In quale Il visitatore Chiunque Può comprare I nostri prodotti Anche Dei prodotti speciali Fatti Realizzati Apposta Per questa giornata Questo era il servizio Cambiamo quotidiano Adesso Andiamo sulle colonne Del centro Ripartiamo da Pescara Per vedere Quelle notizie Di cui si occupa Il quotidiano Nuovi posti di lavoro 20 assunzioni in comune Via i contratti Solo per pochi mesi Per i vigili stagionali Interinali E assistenti sociali Questa insomma È una buona notizia Buferra sulla commissione Cultura e turismo Emilio Longhi Del partito democratico Si dimette Da presidente E poi I prezzi per la sosta estiva Da oggi si parcheggia Anche sulla strada Parco Tariffe da 3 a 4 euro A nord Più economiche a sud Gratis a San Silvestro Spiaggia Civitaresi annuncia Con gli incassi Rifaremo la pista ciclabile Sul lungo fiume E poi c'è proprio Il tabellario Il tariffario Dei parcheggi Ecco qua 3 euro Strada Parco 4 euro Un euro Tra lungomare Colombo E via Barbella Un euro Tra lungomare Colombo Via Barbella E via Pepe Gratuito A San Silvestro Spiaggia Con gli orari In vigore Da oggi Fino al prossimo 27 agosto Quindi a fine Estate E poi A centro pagina 8 Telecamere Per scoprire Chi sporca Attiva Installa Video accanto Ai cassonetti In periferia In centro Multati Già 4 cittadini E il comune Consegna I lavori Per il ponte Di legno All'attraversamento Ciclo Pedonale Ordine Degli architetti Rinnovato Nel segno Della trasparenza Ha votato La metà Dei 1400 Iscritti Si è affermata La lista Siamo tutti Presidenti Che dice Puntiamo Sul concetto Di appartenenza A un gruppo E sulla difesa Ovviamente Ci mancherebbe Anche Della professione Il ponte Flaiano Apre alle auto Il primo E un ex Vigile urbano Carovana di macchine Tra claxon Applauso Atteso Il via libera Sulla struttura Appena inaugurata I bimbi Che proposero Il nome Grazie Per averci ascoltato La quarta A Della scuola Flaiano Il ponte Appreso Proprio Il nome Del famosissimo Scrittore Pescarese Da settembre La settimana Corta Più forti Delle minacce Sarà un classico Rivolto Al mondo Del lavoro La preside D'amico Del liceo Classico D'annunzio Difende la scelta Del consiglio Istituto Ho chiamato La Digos Dopo le dichiarazioni Di guerra Sui social Ma gli studenti Annunciano Nuove proteste A Cepagatti Invece La regione Destina 100.000 euro Invece Al agrario Andiamo avanti Sempre a Pescara Nido Genitori In piazza No alla privatizzazione Anche qui Vedremo tra pochissimo Il servizio San Giovanni Tiatino Sciopro e manifestazioni Di protesta Contro il comune Petizione Di CGL CISL Per salvare La gestione pubblica Critiche Dalla minoranza E allora Andiamoci a vedere Questo servizio Che parla Della protesta Di San Giovanni Tiatino No alla chiusura Del nido Di infanzia comunale E allo smantellamento Della SGT Multiservizi E quanto ha ribadito Con forza Il corteo Che si è radunato Sotto il municipio Di San Giovanni Tiatino Per chiedere Al sindaco Marinucci Di non esternalizzare I servizi I dipendenti Della SGT Multiservizi Sono in stato Di agitazione Dallo scorso 6 giugno Quando in una riunione Il sindaco Ha ribadito Alla volontà Dell'amministrazione comunale Di chiudere La gestione pubblica Del nido d'infanzia Di procedere All'affidamento esterno Del servizio Di trasporto scolastico E verde pubblico Di affidare Alla SGT Nuoto La gestione Di tutti gli impianti Sportivi E di proseguire Con il project financing Del cimitero Il primo cittadino Ha motivato la scelta Con i mancati trasferimenti Da parte dello Stato Ritardi che non sfungono Ai sindacati Che però Non ci stanno E lamentano Il ritardo Con cui è stata affrontata La questione Sono a rischio I posti di lavoro Di tutte le lavoratrici Del nido Ma qui Il problema Oltre che occupazionale È un problema sociale Nel senso che si priva Un territorio come quello Di San Giovanni Teatino Dell'unica struttura pubblica Un nido di eccellenza Al cui interno ci sono Elevate professionalità Che da anni Danno un servizio Di livello Superiore a quello Che troviamo Sul territorio In un momento In cui c'è richiesta Di servizi C'è richiesta E anche le norme Sui servizi Alla prima infanzia Stanno cambiando Questa amministrazione Sceglie Di privatizzare Questo servizio Il sindaco Ci ha detto Che questa è una scelta Dettata dai tagli Del governo Se così è Chiediamo al sindaco Di scendere in piazza Insieme a noi Perché questo servizio È un servizio Di tutti i cittadini E quindi lui Rappresenta Tutti i cittadini Di questo territorio Noi ci appelliamo A tutto il territorio A tutte le istituzioni Come abbiamo già fatto Perché si preservi Questa bella realtà pubblica Che dà un buon servizio Ci spostiamo adesso A Montesilvano I senegalesi Sfrattati anche Dalla spiaggia Emergenza sociale Rimosse dalle forze Dell'ordine Tende E cucine da campo Ma dopo qualche ora Gli extracomunitari Ritornano Sul litorale Operazione della finanza Di spalla Droga sulla costa Dalla campagna Presi i due Corrieri E poi Sempre a Montesilvano Corso Umberto Da valorizzare Le associazioni Dei commercianti Chiedono al comune Di investire Su questa area Spoltore giunta fatta Rullo new entry Deleghe da stabilire Di Lorito Ovviamente proclamato sindaco Da definire Chi sarà il suo vice Matricciani Resta Presidente del consiglio Accanto Ovviamente La tragedia di ieri sera Giovane muore nello schianto Tragedie sulla variante Frontale con la smart All'uscita della galleria Le piane Grave anche il Conducente Del furgone I familiari delle vittime Ovviamente ci spostiamo Su Rigopiano Fanno le ronde Contro il turismo Tra le macerie Dell'hotel Appostamente in attesa Della bonifica E della recinzione Dell'intera area Le indagini Dopo la denuncia Feniello Prima vivo E poi morto Interrogata La famiglia Che accusa Il prefetto E su Rai 3 Oggi si parla Della valanga All'anno Consiglio Per la famiglia Senza casa La capogruppo Di opposizione Fattore Scrive al sindaco Situazione disperata E assolutamente Da risolvere A Chieti Il magistrato Vecchi Nel Mirino Addirittura Dal 2012 Il CSM Trasferisce Il pubblico ministero Dalla procura Di Lanciano A quella di Pescara Cinque anni fa Una molotov Esplose Sotto 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 la sua casa E poi la notizia Che vi abbiamo letto Prima Arrestato nel giorno Del suo matrimonio Lanciano Accusato di spaccio E lesioni Ha picchiato Un giovane cliente Che non aveva pagato La droga Chiudono 20 figliali Dell'ex Carichieti Ubi Banca Presenta il piano Industriale Dopo l'acquisizione Dell'istituto 3.000 esuberi Nel gruppo All'Aquila Call center 3G Allarme licenziamenti Martedì L'incontro a Roma Al ministero del lavoro Senza un accordo 91 dipendenti Rischiano di perdere il posto Rubati e accelano 20.000 litri Di gasolio A Roseto Morta nella Roulotte Tugurio Dramma della solitudine La 72enne Viveva accampata a Colonia Per una sua scelta Due giorni fa Aveva rifiutato Un soccorso Per un malore In sisma In arrivo 24 milioni Per le scuole E adesso Andiamo Allo sport Partendo ovviamente Con il Pescara Pescara Stai attento Perché il Genoa Ti soffia Gans Dopo Vido L'Atalanta Prenota anche Pessina Il Delfino Accelera Per Vitale Avezzano È fatta Per il portiere Fanti Allo stadio Adriatico Light Camp 2017 Teramo Il primo imperativo È assolutamente Quello di sfoltire L'organico Il ridimensionamento Del budget Impone Dei tagli Alla Rosa Lunedì La presentazione Del DS Giorgio Repetto E del Nuovo Allenatore Antonino Asta Celano Pronta a rivivere L'emozione Di 30 anni fa I protagonisti Della prima promozione Tra i professionisti Tornano in campo Le 8 vittorie Dei fila E il pari Nel derby Poi la cavalcata Degli uomini Di Andretti Vediamo anche Sul quotidiano Il messaggero Le parole Di Gautieri Che vota Pescara Zeman Dice Non invecchia mai Il boemo È uno Che insegna Calcio Dice L'allenatore Peraltro Con il recente passato Anche a Lanciano E le sue squadre I calciatori Sanno sempre cosa fare Ha dato tanto Al football Italiano E continuerà a farlo Anche a 70 anni L'età Non conta Per quanto riguarda Il mercato Organico Troppo ampio Tutti al lavoro Per sfoltirlo Ovviamente Il Teramo A proposito Di giocatori Che hanno giocato A Pescara È anche molto bene Deve decidere Il futuro Di Sanzovini Anche il bomber Potrebbe partire Come altri 15 giocatori Che sono ancora Sotto contratto Nell'altra pagina Chieti Tra i progetti C'è anche lo stadio Parla il presidente Trevisan La zona Individuata E il Ciapi Ridaremo dignità A una città Che qualcuno Voleva cancellare Notizie di mercato Avezzano E Federico Fanti Il nuovo portiere Dei Marsicani E poi Acqua e Sapone Via Naccarella La panchina Ma è un solo Un'ipotesi A Del Gallo L'Aquila Oggi la festa Dei tifosi Per i 90 anni Del club E poi L'Amatori Riparte con Raiola E sarà lui Il nuovo allenatore Della squadra Di basket Adesso Tornando per Un attimo Visto che abbiamo Fatto la cronaca Della provincia Di Teramo Ma la faremo Più approfonditamente In questa Ultima parte Andando a vedere Quello che ci propone Sulle colonne Il quotidiano La città Che tra un po' Andremo ad aprire Per vedere Per fare Un'analisi Più dettagliata Di quello Che troverete Sulle pagine E che interessa Teramo E la provincia di Teramo Abruzzo 21 milioni Per le scuole Teramane Nel finanziamento Per i danni Del terremoto Anche il nuovo Polo scolastico Della San Giuseppe A Teramo Andiamo Avanti Il convegno Sui vaccini Chiamateci Semplicemente No Vax Gli organizzatori Del convegno Questo pomeriggio Saranno a Mosciano Rifiutano L'etichetta Di antivaccinisti La direttrice sanitaria La libertà vaccinale Inizia Dove finisce Il diritto Alla salute Di tutto Il greggio E' chiaro che questo E' un tema Abbastanza Controverso Se vogliamo La regione Vara il nuovo Comitato di coordinamento Per le vaccinazioni L'obiettivo è rendere Immediatamente operativo Il piano previsto Dalla nuova legge Sull'obbligo Vaccinale I venerdì Del gusto L'università di Teramo Lancia i suoi confetti Dolci e salati Prodotti innovativi Per il confettificio Di Carlo Dalla ricerca Rosci Ritrovo una teramo Molto peggiorata Il leader Degli antifa Abbraccia E si lascia Abbracciare Dalla sua città Dopo Cinque anni Passati In carcere Fino al 24 giugno Invece In città Ci sarà La festa Della Musica Per la politica Pomante Allontanato Dalla sede Dei Dem Il coordinatore Dei Sottanegliani Si presenta a sorpresa Alla conferenza stampa Di Minosse E Verna Manotesa E fuoriusciti Dopo aver parlato Del rapporto Con Abruzzo Civico Il segretario Ha teso la mano E tra i fuoriusciti Del partito Democratico Cittadino E poi In retroscena Mi hanno minacciato Per un incarico legale Appena Ricevuto Dall'istituto Zooprofilattico Caporale Gli sfollati I soldi dell'Ater Rientreranno Entro il 2018 L'ente prepara Un piano di miglioramento E adeguamento sismico Per le 1500 Abitazioni danneggiate E poi Acqua Sicura E prima Abbiamo visto Solo il ruzzo Rifiuta l'accesso Agli atti Dalle sorgenti Le parole Di Alfonso Marcozzi In provincia Il controllo Dei cinghali Finisce in procura I presidenti Degli atti Citeramani Presentano un esposto Contro la delibera Della regione Sulla caccia E poi Torricella L'infiorata 2017 Dedicata ai 10 Comandamenti Torna nel fine settimana La tradizionale manifestazione Del Corpus Domini E poi Riccardo Mercante Sulla riorganizzazione Della sanità Teramana Fino a questo momento Ho sentito Solo Chiacchiere Andiamo a Giulianova La chiusura del Cirsula Pagano i cittadini Il comune Pronto a rivalersi Sul gestore Per i costi Aumentati E sempre a Giulianova Analisi dell'acqua Eccellente E bandiera blu Anche sul lungomare Rodi Scendiamo in basso Politica L'instabilità Di Mastromauro Danneggia turismo E Commercianti E poi a centropagina Eventi Giro di vite Sulla sicurezza Dopo ovviamente I fatti di Torino Sarà necessario Trasmettere indicazioni Tecniche E programma dettagliato Per la cronaca Nuovo sequestro Di vongole Nel porto Appunto Di Giulianova Servizi sociali A rischio In sei comuni L'annuncio Di Sabatino Di Girolamo Durante il consiglio comunale Il caso notaresco A mettere a rischio L'unione dei comuni La mancata adesione Di notaresco Che non può Essere Imposta Andiamo avanti Sai la festeggia Ottant'anni Della fabbrica Di Liguerizia Ieri mattina La cerimonia inaugurale Serie di iniziative Organizzate dalla storica Azienda Silvarola Andiamo allo sport Il Teramo prepara Le valigie Per gli indesiderati Lui di la presentazione Di Asterrepeto Poi via le manovre Per liberarsi Di molti elementi Della rosa E poi in basso Il triathlon D'Alba Diatica Mantolini E Montanari Vincono ad Alba Diatica Il pescarese Fa solo la prova maschile Mentre l'atleta Pesarese Vince per la categoria Femminile E chiudiamo con il ciclismo Il team Go Fast Da record Alla World Series La squadra diretta La squadra diretta D'Andrea Di Giuseppe Conquista ben Quattro medaglie Alla Marathon Di Lubiana Questo è tutto Per oggi Mattino 6 Torna ovviamente Domani Alla solita ora Alle 14 Il nostro telegiornale Con tutte le notizie Della giornata E tutto Buon proseguimento Di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti